Niente formalità con Crocetta. Chiamiamolo semplicemente Rosario. Lui ama la semplicità. Niente dottore, professore. Chiamiamolo Rosario. Anzi, Rosa. Vive in una casa che... cosa volete chiamarla casa? 60 metri quadrati. Perché quando uno va a casa di un ex presidente di regione, si aspetta di trovare una villa grande, un giardino in fiore, una piscina olimpionica, magari delle carrozze trainate da degli alpaca. O forse ci aspettiamo che Rosa ci accolga con una vestaglia con piume di struzzo, in una sala frescata, magari a un ballo di corte, mentre lancia erba spirulina ai giullari. E invece niente di tutto questo. Rosa è una persona semplice, che ama fare cose semplici, come, non so, accarezzare una tigra. Rosa abita in una casa umile, con i suoi piccoli spazi e con pochi oggetti preziosi. Magari qualche oggetto d'arte, perché a Rosa piace la bellezza. Lui ama il bello. A lui piace tanto il bello. Oggetti belli come questo. Un modello di una delle macchine di Hitler. Oppure oggetti belli come questo braccialetto, con una pietra raccolta in Qatar. Perché Rosa sa parlare anche l'arabo. Lo sapevate? L'arabo è bello. Lui ama il bello. Volete che continui a parlare di lui in arabo? Bello. Significa lui ama il bello. La regione Sicilia, Rosa, l'ha trovata distrutta. Distrutta da quelli che l'avevano governata prima. E lui l'ha risanata. Ha fatto ripartire l'economia. E ha risolto il problema della disoccupazione. E adesso indietro non si torna più. E Rosa lo vuole dire a testa alta. Grazie a Rosario Crocetta, tutti i conti della Sicilia adesso sono in ordine. Anche se a certi forse non risulta. Ma le spese ci sono state perché hanno fatto degli investimenti per la regione Sicilia. Autostrade, industrie, acquedotti, ferrovie, metropolitane e funivie. Anche se alla fine forse la Sicilia si è rovinata proprio perché ha troppo personale. Spendono in personale un terzo in più di tutto il resto d'Italia. In regione hanno cinque volte di più di tutti i dipendenti della Lombardia. Ma noi ragioniamo così perché abbiamo un modo di ragionare del nord. Noi ragioniamo in un modo sbagliato perché non ci piace il bello. Se in Lombardia assumono un medico allora sono tutti bravi e l'amministrazione del nord piace. Se invece in Sicilia assumono 24.000 forestali per tagliare una siepe allora è lo scandalo della solita Sicilia sprecona. Anche se forse 24.000 forestali sono un po' un'esagerazione. Ma in Sicilia la siepe cresce più in fretta del nord. Hanno questo sole meraviglioso, questo mare. Rosa ci va spesso. Anche oggi è andato. Gli piace il bello. Volete vedere una foto di lui al mare? Gli piace il bello. Allora visto che insistete vi spiego la foto. Qui potete vedere il bello. Ci sono gli scogli, le scarpe di crocetta, lo zaino di crocetta. Perché lui non va sulle barche costose. Non frequenta i posti di lusso. Lui si butta semplicemente sulla spiaggia. Nella sua integrale nudità. Si lascia travolgere dalla brezza leggera. Dal mare che gli sfiora il membro lasciato al vento. Un'immagine bellissima. Se vedete non c'è nessuno perché lui sceglie spiagge poco affollate. E sapete chi è che gli ha scatato questa foto? Uno dei 24.000 forestali che quel giorno non sapeva che minchia fare. E voi direte ma 24.000 forestali non sono troppi? Ma certo che sono troppi. Ma secondo voi la siepe si taglia da sola? Però Rosa non si è ripresentato contro Musumeci perché voleva un posto in Parlamento come segretario. In poche parole aveva ricattato Renzi. Ma Rosa non riesce a capire il modo che abbiamo di ragionare qua al nord. Se uno a Milano trova lavoro perché ha studiato allora è merito. Se Rosa dice a Renzi di dargli invece un posto in Parlamento come segretario perché se no lo sputtana allora è ricatto. Ma come ragioniamo qua al nord? Rosa invece non ragiona così perché a lui piace il bello. Guardate che bello questo oggetto. Un busto di Napoleone di marzapane. Che sembra quasi ceramica. No minchia no è ceramica. Sembrava quasi il marzapane che fa Rosa perché lui sa cucinare. Cucina bene anche. Volete sapere la sua specialità? La pasta alla catanese. Prende le acciughe, le taglia fine fine, poi ci butta il pan grattato sulle pennette. E a proposito di penne voi farete qualche domanda. Ma basta domande sulle penne. Hanno solo speso due milioni in penne e matite d'altronde. 20 volte in più di tutta la Lombardia. Ma il confronto con il nord non si può fare. Loro sono la terra di Quasimodo, di Sciascia, di Verga, Vittorini, Pirandello. Tutti scrittori. E voi non volete spendere due milioni in penne? Senza le matite, Guttuso, come disegnava. Con la minchia? Questo non giustifica la spesa. Ma ormai basta. Rosa non c'è più. E di quegli anni lui che bilancio farà? Lui fa un bilancio bello. Perché è l'unico presidente della regione Sicilia che negli ultimi 20 anni non è stato arrestato. Ora vedremo se anche Musumeci toccherà questo straordinario record. Però d'altronde Rosa non può essere felice solo perché non è stato arrestato. So che negli ultimi anni con i politici si siamo abituati in un'altra maniera. Ma sarebbe la normalità non essere arrestati? Però Rosa forse anche sì che deve essere felice di non essere stato arrestato. Anche perché se no di cosa deve essere felice? Che non c'è lavoro. Che non ci sono le ferrovie. Ferrovie di cui avevano pure speso dei soldi. Che la regione Sicilia rischia il fallimento. E voi direte, e beh sì, sono questi i problemi della Sicilia. Invece no, questo è quello che vediamo noi al nord.